E luce fu. Dopo tre mesi e mezzo torna l'illuminazione allo stadio dell'Etna di Adrano, messo K.O. da un guasto alla cabina elettrica. Questa mattina operai della ditta incaricata hanno sistemato il guasto ridando dignità soprattutto al custode dello stadio che per cento giorni circa ha dovuto convivere con una situazione assurda e paradossale, e cioè senza luce e acqua. Le polemiche ovviamente sulla vicenda non sono mancate dopo i nostri servizi, con il sindaco Dagate che aveva ordinato la chiusura dell'alloggio del custode per mancanza di condizioni igienico-sanitarie, un'ordinanza di sfratto che aveva scatenato l'inferno sui social e tra le forze politiche della città. Mancuso e i suoi consiglieri di riferimento avevano fatto un sitine di solidarietà allo stadio dell'Etna nei confronti del signor Milazzo, sgangiando la bomba contro l'amministrazione comunale. Stacchiamo la spina non votando il bilancio se questa amministrazione non porta un programma serio, aveva dichiarato Mancuso. Accetterò con serenità le decisioni del Consiglio, aveva invece replicato Dagate. Polemiche, tante, adesso però la notizia è che dopo 100 giorni il custode dello stadio ha nuovamente l'impianto di illuminazione funzionante. E l'acqua, altro dettaglio non da poco, torna dunque in funzione anche lo svincolo della 284 Adrano Sud, delle luci della pista dell'Elisoccorso, oltre ai riflettori dello stadio dell'Etna, che però non si riaccenderanno per gara ufficiale o allenamenti, considerato che ad Adrano il calcio è morto e sepolto. Apprendo che allo stadio dell'Etna del nostro comune è stata riattivata l'energia elettrica in seguito al grave guasto della cabina elettrica. Ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Adrano, Angelo Dagate, la luce illuminerà un luogo dello sport, dell'aggregazione, dei giovani, dei bambini. Una di queste sere vi farò una passeggiata insieme agli sportivi e dai ragazzi degli oratori, a cui regalerò idealmente questa struttura ed io vigilerò, sono io il custode dello stadio.